Ai giovani, agli imprenditori, a tutti i partecipanti, buon PMI Day, buona undicesima edizione del PMI Day. Un'edizione sicuramente che avviene in un momento difficile, in un momento che vede tutti noi molto preoccupati, in un momento in cui la pandemia sta generando molte preoccupazioni ovviamente per l'intero Paese. Però nel momento in cui parliamo di contaminazione non dimentichiamoci di parlare di una contaminazione ancora più importante che è quella che vede al centro le imprese e i giovani nel conoscersi, nel riuscire a scambiarsi esperienze e soprattutto nel portare ai giovani, anche attraverso la rete, anche in un momento così difficile, la conoscenza delle nostre imprese. L'impresa è valore, l'impresa è territorio, l'impresa è lavoro. In questo noi crediamo come imprenditori che sia molto importante riuscire a essere sempre connessi a voi giovani e siamo convinti che l'anno prossimo, finito questo difficile momento, potremo riaccogliervi nelle nostre imprese e insieme parlare di lavoro, parlare di futuro. Buon PMI Day a tutti voi!